La mia devozione alla Madonna nasce fin da piccolo. Si può dire che l'abbia succhiata con il latte materno. È un po' come dire la nostra custode, è un po' la mamma. E come mamma sappiamo sempre che ci avvicina e che non ci abbandona mai. Io credo davvero che sia la Vergine Maria il segno più alto dell'amore di Dio per noi. Sono convinto, o meglio, amo pensare che la Madonna mi ha salvato la vita. La Madonna non mi ha mai tradita, mi ha sempre, sempre aiutato, sempre. Di questo ne posso essere certe testimone. Ciao a tutti! Ciao a tutti! Grazie.